Questa prova è l'undicilesima batteria del SESI con elettro programmatico. Amici che stanno centrando con una precisione e due passaggi. Allora, il batterio è posto, il nostro piano è più. Siamo già nel filo dell'ultimo giro. Bisogna stendere tutto su una linea esterna per guardare il tempo, per guardare. E' un excelente il programma finale da Rino. Vengono la pazienza anche tra questa. Pince sulla batteria, che è una maniera attaccato su Magali per i suoi modi. Con il volo di Natale, che sono trattato il suo posto, ma ci siamo disegnati. All'affizionante, che sono dispostata presentemente, inizia a prendere con il titolo di giro. Anche si veda l'ultima batteria in settembre. inizia a prendere con il titolo di Guale. Inizia a prendere con il titolo di Guale. E' una maniera di riprendere con il titolo di Guale. Il titolo di Guale è pronto per la valentia finale per un tempo edificato di 37 e 30. Vai Lorenzo! Lorenzo! Vai vai! Venta parola tra canale, il protagonale a postarci da Matteo Pagli della Contrucometria dopo l'entruttore del 5, toccatane l'idea della Repubblica Capitola. Una linda scoperta del controllo degli dovuti. Sottotitoli Amplio! La dica di remorzata, che prendiamo in battuto per la voce, che la caldata da Lullcio, si chiude ad all'orgoglio, che con il suo premio è il suo belito della partizia Ale, I'avviciti con il giro con il giro di un'attività generale che è stato un Stata generale, per il tuo primo punto. Cattano e il resto, non si chiedono a termini, non si chiedono a comprare la stanza di margenio, ma non si chiedono a comprare la stanza di margenze, ma non si chiedono a comprare le punti di continuare, non si chiedono a comprare la stanza di margenza come la stanza di margenza. La prima domanda è stata un'attività di margenza che ci sceglieva con un conto di 1'08 e 94. e non 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 si fa davanti a scopo di attuale l'invito del studio sportivo ma l'invito è stato portato con questo partito dell'evento 9 della polizia finale e le lele di partito agitare questa prova a occupare questa posizione alle strade attraverso il simone e la risulta per la presa usare l'invito dell'evento 9 della polizia la seconda posizione stiamo avvicinando il 4 giro per la confusione a continuare la seconda posizione il simone ma che arriva, occhio! quindi stavano il 3 di Palamere il simone con le prime e 3 posizioni stanno cercando di riconoscere il terreno per la prima generale ci sarà assicurato ai suoi diretti del personale che erano ai due giri del termine partito da adesso siete attivano la linea secondo la posizione perfetti simone racconta lo stile della campagna che aveva la confusione e il 3 passino attaccato la lucina di corda da 3 di quattro in posizione stanno avando la seconda posizione e il tempo incazione 1.39 che aveva la fine città città ci 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 ci